Si è tenuta a castrezzato l'inaugurazione del nuovo polo logistico Bracchi. Durante l'evento si è tenuto il taglio del nastro che dà ufficialmente il via al nuovo polo est. Ai nostri microfoni sentiamo le parole di Umberto Ferretti, amministratore delegato Bracchi. Ultimato alla fine dello scorso anno, noi siamo entrati in contatto con la proprietà chiusa quel periodo e abbiamo attivato operativamente questo edificio in pochissime settimane partendo dal mese aprile. Oggi facciamo l'inaugurazione ufficiale ma in realtà stiamo lavorando già da un po'. È un sito estremamente funzionale, abbiamo preso questo primo lotto di 20.000 metri, qui stiamo facendo qualche considerazione per l'espansione. È un lotto, è un edificio dicevo che ha caratteristiche costruttive estremamente moderne, estremamente attenti all'ambiente. ha una certificazione LEED Gold che è un sistema di certificazione messo a punto da l'associazione di costruttori immobili americani dove si valuta l'attenzione della costruzione rispetto ai fatti ambientali, al consumo idrico, al consumo di CO2, alla generazione di CO2, al consumo energetico, quindi dal punto di vista è una costruzione di avanguardia. Con riguardo alla location direi che è privilegiata per il fatto che è molto vicina all'autostrada, la A35 che è collegata con tutta la rete di aria nazionale e permette sbocchi verso il nord Europa. Quindi siamo contenti di essere qua. Il futuro è un futuro che macroeconomicamente può generare qualche inquietudine, ciò nonostante noi riteniamo che il trend della logistica sia un trend che ormai difficilmente possa subire degli arresti. Le aziende durante i periodi di difficoltà economica o di difficoltà di mercati cercano di togliersi i costi fissi in casa e di comprare i servizi e noi siamo quelli che assolvono questo desiderio, questi progetti dei nostri clienti. L'apertura di questo nuovo hub logistico è un ulteriore grande traguardo per Bracchi, 20.000 metri quadri di superficie coperta, progettato secondo lo standard tecnologico e ambientale. Il polo offre spazi, uffici e ampie aree verdi, numerosi parcheggi. Sentiamo le parole di Matteo Parazzoli, responsabile logistica Bracchi. Questo magazzino rappresenta l'obiettivo per sostenere la nostra crescita, la nostra crescita che continua da anni. Crediamo in quello che stiamo facendo. Siamo un'azienda che punta a una crescita sostenibile, una crescita che ci possa rendere sempre più competitivi sul mercato. Questa realtà che oggi stiamo inaugurando deve essere un ulteriore milestone che raggiungiamo e che ci possa consentire poi di lanciarci verso obiettivi futuri. Grazie. 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 Grazie.